Cucinare è un'espressione di cosa? Dimmelo. Ai massimi livelli, del sostegno per qualcuno, dell'amore. Adam Jones a Langham è ora uno dei posti migliori e più interessanti di Londra in cui andare a mangiare. Quale parte non ti piace? Uno dei o interessante? Io non voglio che sia un posto dove la gente venga a mangiare. Non va bene. Noi dovremo creare orgasmi culinari. Quando è l'ultima volta che hai avuto un orgasmo interessante? Non devo mai, mai discutere di cibo con te in pubblico. La gente mangia perché ha fame. Io creo cibo perché smettano di mangiare. Stai facendo lo stupido. Cucinare esprime chi siamo e noi al momento siamo un due stelle, entrambi. È una recensione a due stelle. Possiamo anche continuare così ed essere interessanti. Ma io voglio che la gente venga qui e muoia dalla voglia. E per farlo ho bisogno di te.